Il PIL complessivo delle regioni meridionali nel 2016 dovrebbe attestarsi ad un incoraggiante più 0,1%, una buona notizia che in ogni caso non fa passare in secondo piano i tanti problemi che attanagliano ancora l'economia del sud dell'ormai cronico divario con le regioni settentrionali. E' pertanto prematuro parlare di effettiva inversione di tendenza, lo Svimez mette in evidenza quella che in proiezione potrebbe diventare la base di partenza per tirarsi fuori da una crisi che nel giro di pochi anni ha bruciato migliaia di posti di lavoro e impoverito tantissimi territori. Per quanto riguarda la Basilicata il PIL dell'anno che sta per concludersi fa segnare un meno 0,7%, confermando un trend negativo che dall'inizio della crisi non si è mai interrotto. Anzi, nella poco confortante classifica che prende in esame proprio il periodo che va dal 2008 al 2014, la Basilicata fa registrare un pesantissimo meno 16,3% di PIL dato secondo soltanto a quello del Molise. Numeri sui quali riflettere, cifre che dimostrano ancora una volta come la vera ripresa per il Meridione resti al momento un obiettivo lontanissimo da raggiungere. Qualche spiraglio però si riesce ad intravedere nel secondo trimestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014, gli occupati sono cresciuti a sud di 120.000 unità. La ripresa occupazionale che tocca quasi tutte le regioni meridionali, eccezione fatta per la Calabria, riguarda soprattutto i settori agricolo e terziario. In Basilicata la spinta decisa arriva sicuramente dal settore automotive con le nuove assunzioni presso lo stabilimento FCA di San Nicola di Melfi, miglior performance in assoluto a livello nazionale per ciò che concerne il PIL e del Friuli Venezia Giulia. In questa classifica la Basilicata occupa una posizione intermedia con un meno 0,7%, un dato che colloca la nostra regione davanti a Molise, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna.